In attesa del recupero della partita tra Turris e Avellino, che potrebbe disputarsi il 28 ottobre, Domenica si gioca per la seconda giornata di campionato, con i corallini impegnati nel match casalingo contro il Virtus Francavilla. Gara d'esordio, quella contro i pugliesi, per la squadra di Mister Fabiano, che affronterà la sfida di Domenica con alcuni assenti. Mancheranno il capitano Longo, il giovane D'Alessandro e l'attaccante Giuliano Alma, che si aggregherà regolarmente al gruppo per la metà di ottobre. Nonostante gli assenti, la squadra scenderà in campo con una formazione collaudata. Confermato, il nuovo arrivato a Bagnale in porta. Difesa 4 con Reinone e Lorenzini di Nunzio ed Esempio. A centrocampo, Daniele Franco schierato come vertice basso, affiancato da Fabiano e Signorelli. In attacco, Giannone alto a destra, Romano favorito su San Domenico nel ruolo di alla sinistra e Persano a sostituire Longo come punta centrale. Nel frattempo, sul fronte mercato, continua a muoversi la Turris, che dopo aver ufficializzato l'arrivo di Tascone dal Pescara, torna a trattare l'attaccante del Pisa Giuseppe Sibilli. Il giocatore, già vicino all'arrivo in maglia biancorossa in estate, è di nuovo una suggestione, in quanto il Pisa potrebbe lasciarlo partire in pressito dopo l'arrivo del giovane Palombi dalla Lazio. Grazie.